Finalmente l'incendio che ha colpito un cappannone in località difesa Caraffa è sotto controllo. Dalle 3 di questa mattina 35 unità dei vigili del fuoco con 8 mezzi erano al lavoro per spegnere le fiamme in una struttura che ospitava 4 attività commerciali, tra cui un deposito di coffea nei funebre e urne cenerari e un'impresa di polizia che sono state completamente avvolte dal fuoco. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all'interno delle altre due attività che hanno subito danni dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione. Attualmente i vigili del fuoco stanno effettuando l'operazione di spegnimento degli ultimi focolai e di bonifica dei luoghi. Sul posto è intervenuta anche la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi, neanche quella dolosa.